L'amministrazione comunale di Teramo, nell'ambito dei progetti finalizzati a migliorare l'informazione delle procedure nella pubblica amministrazione e il funzionamento dello sportello unico per l'edilizia, ha presentato la nuova piattaforma web per consentire la strutturazione delle pratiche edilizie in formato digitale e la consultazione dei dati riguardanti le pratiche edilizie dei regolamenti comunali e della cartografia. Un passo in avanti molto atteso perché permetterà di accelerare soprattutto il flusso di pratica relativa al post-sisma, così come richiesto dal commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini. L'intervento fondamentale in linea generale, la nostra città lo aspettava da tempo, i nostri tecnici, i professionisti, gli utenti tutti, anche e soprattutto per accelerare il percorso di ricostruzione. Sulla ricostruzione privata oggi l'ordinanza 100, grazie al lavoro del commissario Legnini, di Anci, dei sindaci, ha di fatto rivoluzionato completamente il sistema, dando un ruolo fondamentale, centrale ai professionisti che vanno messi in condizione di poterlo esercitare e svolgere, soprattutto di poter portare avanti le pratiche con un'accelerazione, con una rapidità, una semplificazione, quindi il sistema informatico, il supporto, il suo telematico è fondamentale in questa direzione, proprio per facilitare questo rapporto e accelerare i tempi. Questo è l'obiettivo fondamentale, ovviamente nell'ambito di un adeguamento normativo che la nostra città aspettava da tanti anni, che i nostri utenti, i professionisti, e finalmente questo risultato, che poi era uno degli obiettivi di governo di questa amministrazione, della nostra amministrazione, è stato portato a compimento. Partirà dal primo marzo e ci sarà una nuova casella di posta elettronica dedicata, sarà sempre una casella PEC, che sarà proprio denominata SUE, quindi sportello unico dell'edilizia, dove potranno accedere solamente però i tecnici, che saranno ovviamente registrati. Funzionerà che tutte le pratiche edilizie che riguardano la parte residenziale delle costruzioni, saranno inserite solamente digitalmente tramite questa casella di posta elettronica dedicata. Non è assolutamente una novità, noi abbiamo già lo sportello unico per le attività produttive, dove già con il portale Imprese in un giorno, già è attiva questa attività, quindi i colleghi non sono sicuramente, i colleghi tecnici, i liberi professionisti, l'hanno già apprezzata per il suo e sicuramente anche per il suo. Grazie a tutti.